Siamo al terzo giorno a Singapore, stamattina abbiamo fatto le lezioni quindi è già tipo ora di pranzo, è la 1 di pomeriggio stiamo ad Orshard Road e stiamo andando a comprare dei vestiti per poter andare in Indonesia sicuri perché vogliamo coprire le gambe e stare un po' coperti per evitare contatti strani con insetti pericolosi o roba del genere poi nel pomeriggio ho un'altra lezione io alle 15.30 e poi giriamo un pochino comunque oggi non so se riuscirò a riprendere tantissimo ma proverò a fare un po' di roba Adesso ci siamo spostati a Chinatown, stiamo mangiando, mangiando, io mangio perché passo poi dopo ci sono le lezioni poi non lo so, dovremo decidere ancora bene cosa fare stasera ma mi sa che otteremo di nuovo per il Marina Bay o qualcosa del genere Adesso abbiamo finito tutte quante le lezioni e stiamo andando a mangiare il sushi o lukinit in uno dei centri commerciali di Singapore al Orshard Road che siamo stati oggi pomeriggio e abbiamo visto che ci sono un bel po' di ristoranti 5 minuti ai giardini botanici di Singapore, uno dei due giardini botanici, l'altro è quello Marina Bay Bay no, come si chiama? Marina Bay no, Marina Bay è il posto Marina Bay Gardens Marina Bay Botanico Gardens by Day Bay si chiama l'altro e questo qua invece è quello vicino al nostro dormitorio che è un po' più piccolo e non è niente di che Beh, non è invece com'è? bene adesso ci stiamo utilizzando per andare verso l'hard rock caffè e poi a mangiare qualcosa perché non abbiamo fatto colazione stantina che siamo sviati tardissimo e la stanza per la colazione è stata usata quindi adesso andiamo all'hard rock caffè e poi vediamo che cosa fare abbiamo finito il giro all'hard rock caffè questo l'hard rock caffè perché c'è un'altra singapore e adesso stiamo andando a lezione quindi ci vediamo direttamente stasera alle otto che finiamo le lezioni ora abbiamo finito le lezioni stiamo girando un po per singapore chinatown e adesso andiamo a bere qualcosa poi vediamo un po' come di sera ancora giriamo la sera in questi giorni che vediamo le lezioni ci siamo trovati tutte al college e ci stiamo dirigendo verso il marino al locale stella v che allo sky bar di singapore è più importante a 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 che si fa i fatti suoi Campa cent'anni. Beh, Nat, io direi che il vis-à-vis passa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.